Nuovamente a Sposo Italia, perché l'anticipo di questo calendario ci ha messo ovviamente nella condizione di fare questa scelta anche giusta. La collezione Fiorinda, andando di pari passo, dopo un paio di stagioni che aveva preso, ahimè, in una strada diversa, è ritornata in casa e si è rimpossessata di quello che era il mood e il valore della stessa collezione sino a due anni fa. Quindi l'ho voluta rienterpretare ridando le caratteristiche a questa collezione per una sposa più giovane che ha voglia di mettere delle cose comunque sempre made in Italy, con una buona scelta di tessuti, ma concettualmente molto diversa da quello che è la struttura della Carlo Pigneteglio Couture. Poi ho voluto caratterizzare la Couture con dei nuovi volumi, pensando principalmente alla scelta delle spose, trascurando probabilmente quella che potrebbe essere la concezione di un abito pensando a uno show, ma ho puntato di più a quello che può scegliere una sposa andando in un negozio e farla emozionare con quello che vede. Quello di Pignetegli non è un made in Italy ma è un made in Sartoria e c'è una grossa differenza di tutto ciò. Ciò vuol dire che i nostri capi prodotti vengono sempre fatti uno per uno dalle stesse sarte che hanno fatto il cantonario, da me stesso che ho seguito il cantonario e che seguirò la produzione.